I comuni iblei si organizzano per l'1 e il 2 novembre, giornate di commemorazione dei defunti, quando sarà più alto il numero di persone che affolleranno cimiteri cittadini e mezzi pubblici. Attualmente nessuna limitazione drastica, ma solamente i soliti appelli di distanziamento sociale e all'obbligo di indossare la mascherina. A Ragusa l'amministrazione comunale ha predisposto un servizio gratuito di busnavetta per i cimiteri di Ragusa Ibla e Marina di Ragusa, che sarà garantito sia domenica 1 novembre, giornata festiva di tutti i santi, sia lunedì 2 novembre, giornata dedicata alla commemorazione dei defunti. Il servizio per il cimitero di Ragusa verrà svolto dalle 7.30 alle 18 con Capolinia in Piazza Libertà. Per il cimitero di Ibla il servizio verrà garantito dalle 7.30 alle 17.30 da Ragusa con Capolinia in Piazza Libertà e da Ibla con Capolinia in Piazza Giovanni Battista Odierna. Per il cimitero di Marina di Ragusa il servizio di busnavetta verrà invece assicurato sempre nelle due giornate, dalle 7.30 alle 17.30 con Capolinia in Via Brin. Nessuna limitazione neanche a Comiso, dove però sono previste due novità, quella dell'apertura della struttura anche durante la domenica dell'Ottavario, cioè l'8 di novembre dalle 8 alle 18, e l'obbligo di misurare la temperatura corporea all'ingresso del cimitero, dove ci sarà il personale preposto. Per l'assessore ai servizi cimiteriali Giuseppe Alfano l'appello resta sempre lo stesso, indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale. I cittadini avranno la possibilità di recarsi al cimitero come ogni anno, cercando però di rispettare le classiche regole che ormai conosciamo tutti, distanziamento sociale e obbligo della mascherina. È un appello, principalmente quello che voglio fare alla città, di poter avere il massimo senso civico e il massimo senso di responsabilità, per evitare la classica calca all'ingresso e all'interno del nostro cimitero. Due semplici cerimonie religiose, quelle programmate dall'ufficio diocesano per la pastorale della salute, per le giornate di commemorazione dei defunti. Gli appuntamenti sono stati pianificati nella cappella dell'ospedale civile di Ragusa in considerazione del fatto che allo stato attuale, all'ospedale Giovanni Paolo II, per evitare ogni rischio di contagio, sono state interdette e visite di ogni tipo da parte dei familiari. In particolare, domenica 1 novembre, alle 10, è prevista la celebrazione eucaristica in occasione della solennità di tutti i santi. Lunedì 2 novembre, invece, la celebrazione eucaristica si terrà alle 17. Considerate il periodo di aumenti di contagi dovuti al Covid-19 e l'impossibilità di accedere al Giovanni Paolo II da parte dei fedeli, spiega il direttore dell'ufficio diocesano, il sacerdote Giorgio Chipinti, che è anche cappellano ospedaliero, ci sembra opportuno ovviare in questo modo, facendo sì che le cerimonie religiose si tengano nella cappella dell'ospedale civile. Ovviamente tutto nel rispetto delle regole e delle prescrizioni anticontagio. non mancherà la preghiera per i malati e l'assistenza religiosa nei reparti del Giovanni Paolo II con tutte le precauzioni previste.